T-Nornaut si gioca per il recupero della quarta giornata di ritorno contro Modena, una partita molto importante per Milano, non solo perché di fronte c'è un avversario di grosso blasone come Modena, ma soprattutto perché per Milano è molto importante tornare a fare punti e farlo magari anche in casa. Sì, per noi la cosa più importante è che piano piano stiamo rientrando tutti e oggi dovremo essere tutti a disposizione. Questa è una cosa che fino adesso non abbiamo avuto, almeno nel ultimo mese da quando sono arrivato io. Sicuramente vogliamo dare tutto oggi in campo e lotteremo con tutto il cuore per portare via tutti i punti possibili e speriamo anche la vittoria alla fine. Non è un periodo facile, l'hai detto tu, prima il Covid, poi ovviamente anche degli acciacchi fisici che non hanno permesso a Roberto Piazza di avere la squadra al completo, sei sconfitte consecutive che purtroppo ovviamente non possono non essere considerate. Come si esce da questa tunnel, chiamiamolo così, per quanto Milano comunque nelle prestazioni, anche nelle sconfitte ha fatto vedere di esserci? Forse c'è bisogno, chiamiamolo così, di un episodio che vi possa sbloccare. Ma io non la vedo così, proprio penso che l'importante è, anche quelli che rientrano non sono ancora a 100% e dobbiamo vedere la situazione per come è. La cosa importante è che, come ho detto, tutti stanno rientrando e poi come abbiamo giocato ultime partite senza primo posto, senza primo palgiatore. Adesso ci stiamo allenando, abbiamo fatto uno barra due allenamenti al completo e adesso, come ho già detto, la cosa importante è rimetterci a lavorare, avere a disposizione tutti e cominciare di nuovo a lavorare sulle cose che non ci vengono bene, continuare su quelle che ci vengono bene e poi scendere in campo aggressivi e cercare di portare via tutti i punti possibili. Metterete in campo il 100%, dall'altra parte però troverete una Modena in forma, tra l'altro per te sarà una partita da ex perché è la prima volta che l'affronti quando sei andato via da Modena. Sì, è vero, è la prima volta che incontro Modena da quando sono andato via e sono contento di giocare e sono tante emozioni perché ho vissuto tanti belli momenti a Modena ma oggi i miei amici di là sono avversari e con Milano scenderemo in campo per vincere.